Migliorato il punteggio relativo alla didattica, dove il Bori esale di 15 posizioni, migliora quello assegnato alla ricerca, peggiore invece nell'ambito dell'internazionalizzazione. Con il posizionamento nella fascia tra il 201 e il 205 posto, l'Università di Padova, secondo la classifica stilata dalla prestigiosa Agenzia ADE, passa al quarto posto su tutto il territorio italiano. I passi davanti sono stati numerosi, resta da continuare quell'impegno di apertura già avviato negli ultimi anni, con l'aumento della presenza di studenti stranieri e anche di ricercatori provenienti da ogni parte del mondo.